Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori, in questo video parliamo del tremendo dramma per il calciatore di Serie A, calciatore di Serie A, pensate, dapprima aggredito, poi picchiato e successivamente derubato, un vero e proprio incubo per Raul Moro, 19enne, attaccante spagnolo in forza alla Lazio, il ragazzo si trovava a percorrere il grande raccordo anulare a bordo della sua Mercedes classe A in compagnia del padre, i due sono stati fermati da alcuni malintenzionati che si sono spacciati per poliziotti che dapprima hanno picchiato i due, successivamente hanno sottratto loro l'auto, un vero e proprio incubo per un giovane ragazzo di 19 anni. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao a tutti.